Nel 2022 è stato identificato il primo caso di peste suina in Italia continentale. Oggi in Italia ci sono 18 focolai in Lombardia, 5 in Piemonti e 1 in Emilia-Romagna. La malattia è molto contagiosa per maiali e cinghiali, ma è innocua per l'uomo che non ne viene infettato. Per il commissario straordinario Giovanni Filippini, l'espansione è legata a un'ondata pandemica e la situazione è complessa, ma definirla drammatica è esagerato. Per contenere la malattia non ci sono modelli di riferimento già sperimentati. Fino a oggi si adotta una politica di isolamento delle aree contaminate e di abbattimento di interi allevamenti anche in caso di un solo animale positivo. Il virus si diffonde con il contatto diretto tra animali infetti e sani, con la contaminazione di mangimi, con il morso di alcuni parassiti o attraverso oggetti che entrano negli allevamenti, stivali, abiti da lavoro, le ruote dei trattori e così via. Il virus resta attivo a lungo nelle carcasse degli animali morti e resiste al congelamento. Secondo l'Associazione degli Allevatori, la malattia è un problema per le esportazioni, ora bloccate verso paesi asiatici e americani dove il virus non è presente. E rappresenta una minaccia per un settore che, tra produzione, trasformazione e export, vale diversi miliardi e oggi, secondo gli allevatori, è stato accumulato un danno da mezzo miliardo di euro che aumenta al ritmo di 20-30 milioni al mese.